Si è svolta ieri sera presso l'ufficio del sindaco di Paternò Nino Naso la presentazione della Fiera dei Morti 2023. Presenti oltre al sindaco Nino Naso e l'assessore Salvo Comis, gli ambulanti e i commercianti che presenzieranno alla Fiera dei Morti di Villa Moncada che prenderà il via domani alle 18.30. Il nostro giardino Moncada ospiterà anche questo evento, abbiamo già iniziato l'anno scorso. Quest'anno ci sono tantissime adesioni di commercianti, venditori ambulanti, artigiani, ci saranno anche le giostre per i più piccoli e anche dell'animazione. Inizierà il 28, quindi ci sarà questi 4 giorni e invitiamo veramente i nostri concittadini a partecipare. Noi siamo per le feste tradizionali, quindi i nostri defunti, la Fiera dei Morti, così come vuole la nostra tradizione, così come hanno voluto i nostri nonni, ci hanno proprio lanciato questo messaggio e noi lo continuiamo. È un momento anche per coltivare lo sviluppo economico, devo interessare e con le nostre attività produttive devo ringraziare l'associazione Free Time per questa collaborazione, per questa disponibilità. Ringraziamo l'assessorato alle attività produttive, ringraziamo l'assessore Comis e quanti veramente stanno partecipando e collaborando con noi per il rilancio delle nostre tradizioni, il rilancio della nostra paternità. Dando ringrazio te e l'informazione che dai ai cittadini. L'invito è quello che l'inaugurazione sarà il 28 sabato alla Villa Moncata, ci sarà alle 18.30 l'inaugurazione della Fiera dei Morti. C'è una grande partecipazione degli ambulanti, degli artigiani e dei commercianti. Cosa dire? Invito tutta la città a venire e a visitare la nostra location nella Villa Moncata perché ci saranno tante novità e tanto divertimento. Oggi presentiamo questo evento alla Fiera dei Morti 2023 che si terrà presso la Villa Moncata di Paternò dal 28 ottobre fino al 2 novembre. Come socio dell'associazione ci siamo fatti carico di organizzare il tutto in collaborazione con la disponibilità del Comune di Paternò. Ringraziamo infatti tutta l'amministrazione comunale, il sindaco Naso, l'assessore Comis. Questo è solo uno degli eventi che abbiamo intenzione di organizzare. Di fatti l'obiettivo della nostra associazione è quello di, oltre a valorizzare il territorio, anche quello di supportare le attività locali, i commercianti, gli artigiani dopo il periodo tragico della pandemia, ma anche quello di permettere ai cittadini paternesi, ma non solo, infatti l'invito è rivolto anche ai cittadini dell'Interland, di trascorrere questi giorni nel segno della tradizione al fine appunto di godere e di valorizzare il nostro territorio, in particolare la nostra villa mongata che rappresenta davvero un viore all'occhiello della nostra città.